sono molto deluso per una cosa questa sera e cioè che paredes non si è beccato il cartellino giallo ogni volta che gioca paredes io pretendo che ci sia il cartellino giallo no a parte gli scherzi paredes questa sera ha fatto anche una discreta partita ne parleremo poi domani nelle pagelle vi dico subito una roba domani non è solo giornata di pagelle perché domani è il 15 e come ben sapete ogni 15 alle 15 esce un nuovo episodio di tutti i teorici se volete sapere chi è l'ospite di domani vi aspettiamo sul canale alle ore 15 signori è una vittoria tranquilla quella di stasera per la juventus perché non c'è praticamente mai stato un momento della gara nel quale mi sono ritrovato a pensare odio e adesso quindi io non so dire il tempo che non ero così tranquillo in generale per una partita della juve una partita vinta con merito da parte della juve che aveva anche la possibilità di chiuderla in più di un'occasione forse abbiamo anche aspettato un pochino troppo per trovare il secondo gol di vantaggio anche se in realtà l'avevano trovato in un'occasione in cui sembrava esserci un regore su healing c'è il tocco probabilmente del difensore della cremonese poi magari un po' troppo leggerino nel nell'andare giù però un contatto bizzarro e poi c'era nella stessa azione l'imbucata di di maria alla ricerca di di milic fuori gioco di di alluce di unghie del piede poteva tagliarsi le unghie per per rimanere in gioco e chiuderla prima però una partita che la juve gioca a bassi ritmi perché comunque i ritmi non sono stati elevati con un'idea e cioè quella di stare sempre nella metà campo degli avversari per cercare di di trovare il gol e cercare di non farli andare verso la porta questa sera protetta da per in non ci sono stati veri e propri pericoli creati dalla cremonese una squadra che capisco perché in questo momento rischia la retrocessione a poche giornate dal termine non mi è sembrato assolutamente niente di che un primo tempo della juventus che non mi è piaciuto devo essere sincero invece un secondo tempo in cui la juve sempre senza accelerare senza muovere più velocemente il pallone con ritmi sempre abbastanza blandi è riuscita comunque a creare più occasioni da gol e appunto a punire la cremonese poi c'è da parlare di quella che probabilmente è la tematica principale di questa serata e cioè paul pogba e per farlo voglio anche un attimino fare un giro abbastanza particolare perché pogba torna titolare torna titolare dopo più di un anno mi pare 13 mesi era aprile del 2022 l'ultima volta che aveva giocato titolare col manchester united io sono rimasto stupito dalla titolarità di pogba su twitter avevo detto che ero talmente tanto gasato quanto preoccupato per pogba titolare allegri nel pre partita aveva detto neanche pogba lo sapeva gli ho fatto la sorpresa l'ho fatto giocare gli ho fatto la sorpresa speriamo che regga un tempo quindi che parole abbastanza non tranquille da parte dell'allenatore per quanto riguardava la tenuta fisica dell'atleta io so che ora si aprirà una discussione colpa di questo colpa di quell'altro io la vedo così poi non è assolutamente giusta come non è sbagliata come non ce n'è una più giusta come non ce n'è una più sbagliata io non avrei semplicemente fatto giocare pogba stasera perché stava iniziando ad aumentare un pochino i minutaggi abbiamo guardato poi nell'intervallo della partita in maggio aveva giocato 17 minuti con lecce 25 con l'atalanta poi era entrato appunto nella partita di europa league 20 minuti col seviglia più ovviamente dobbiamo aggiungere tutti i recuperi a queste partite quindi aveva fatto decisamente di più in questi dieci giorni di maggio rispetto a tutto aprile si stava cercando di aumentare gradualmente il ritmo di pogba i minuti di pogba però la titolarità di pogba oggi secondo me andava anche in direzione di un forfè per seviglia al di là dell'infortunio perché un giocatore come pogba che viene da da un periodo di stop così elevato con tanti problemi fisici con un corpo portato agli infortuni beh è naturale che poi abbia bisogno di ricaricarsi io sono molto triste per per quello che è accaduto questa sera paul è un problema muscolare e quindi molto probabilmente la stagione di pogba finisce qua stasera in juventus cremonese dopo 22 minuti poteva farsi male ovviamente anche al termine della partita non partendo titolare ma facendo gli ultimi 20 minuti io semplicemente avrei evitato stasera di far fare dei minuti a pogba perché comunque a priori a prescindere se fai giocare questo pogba ti prendi il rischio perché sai benissimo che che c'è un rischio dietro a schierare pogba dal primo minuto o comunque a partite in corso lo sai che c'è il rischio però quel rischio me lo sarei preso più volentieri giovedì quindi con quattro giorni in più di riposo sulle spalle del calciatore che è tendente agli infortuni e soprattutto in una gara che mi può portare in finale d'europa league io tra l'altro mi aspettavo un turnover molto elevato questa sera ne parlavamo nel video post partita se andate a vedervi l'ultimo video nel video per partita andate a vedervi l'ultimo video che ho caricato prima di questo ragazzi la formazione che vi avevo consigliato è completamente diversa avevamo parlato di lugani di alessandro di healing di barbieri di milling di milic di ken dal primo minuto di miretti di questi sette non hanno giocato uno lo sapevamo che era il portiere insomma è stata molto cambiata questa formazione rispetto a quella che davano alcune testate come titolare questa mattina turnover non c'è stato turnover non c'è stato segno che probabilmente allegri ha forse rivalutato in corsa l'importanza di questa partita vuoi perché vedendo anche i risultati delle altre partite delle altre squadre in corsa per la champions alla luce di quello che accadrà il 22 può essere però è stato un cambio veramente netto veramente netto rispetto a quello che si mormorava fino a questa mattina appunto è ovvio che la juve vincendo questa gara conquista tre punti molto pesanti perché basta dare un'occhiata in questo momento alla classifica di serie a la juventus è la seconda in classifica in solitaria con 69 punti e poi ci sono atalanta 58 roma 59 milan 61 capite bene che se andiamo a togliere alla juventus dei punti in questo momento perché è una cosa che accadrà e togliamo 15 ragazzi andiamo a quota 54 siamo a meno 10 dalla champions 9 dalla champions 11 dalla champions però quindi ci sappiamo che che non è il numero giusto quindi cosa fanno ne tolgono 14 tutto sto casino per toglie in uno in meno io vi dico secondo me 9 10 è il numero magico però ne togli 10 la juventus va 59 e rischia comunque poi magari di trovare un incastro di qualche tipo e che ne so perché poi il milan diventa quarto a 61 e c'è uno scontro diretto da giocare il 28 quindi la partita di questa sera complica secondo me molto 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 i piani per quanto riguarda questa penalizzazione nuova che ci sarà legata al caso plus valenze vediamo che cosa accadrà ma i risultati di questa settimana sportiva con lo 0 0 della roma la sconfitta dell'atalanta il pareggio della lastra la sconfitta del milan secondo me vanno molto a complicare i piani della giustizia sportiva e di quella che dovrà essere con tutti gli effetti una pena afflittiva ma non superiore a 15 minore di 15 probabilmente intorno ai 10 ora diventa molto molto interessante capire che cosa succederà chiusura partita ripeto un intermezzo una simpatica amichevole diciamo così come dicevamo nel video una palestra per quelli che dovranno giocare poi giovedì un momento in cui si è riusciti a prendere dei gialli per dei giocatori diffidati come danilo e quadrado la possibilità di far riposare giocatori come costic eventualmente però sì una partita normalissima la cosa probabilmente da portarci dietro è il fatto che la maglia o in campo siccome è veramente molto 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 bella ma veramente molto bella col pantaloncino nero i calzettoni neri e questo spazio nero dietro con il numero in bianco mi ha dato veramente delle vibes potenti e adesso inizio a ragionare su sul nome da farci stampare sopra la mia che così me la me la ordino il prima possibile me la posso mettere anche magari per per provare a fare insieme i prossimi video non credo che arriverà entro giovedì però speriamo di poterlo fare il prima possibile riepilogo generale partita vinta meritata partita a ritmi bassi partita che gli avversari veramente non giocano praticamente mai partita dove fa l'esordio la maglia e dove ci saluta Pogba mi sono dimenticato però di dire la cosa più importante anzi delle due cose più importanti cioè non abbiamo parato dei gol il gol di bremer che arriva poi nel finale a chiudere la partita ma soprattutto il gol di fagioli che nasce da da un'azione in cui costruiscono lui e chiesa sulla fascia sulla fascia sinistra questo giro incredibile del calcio che fagioli è il giocatore che l'anno scorso ha aiutato cremone la cremonesa ad arrivare in serie a e quest'anno il giocatore che ha tre giornate quattro giornate dalla fine va a segnare il gol dell'1 a 0 una partita in cui la cremonesa aveva necessario aveva bisogno necessario di portare a casa dei punti per cercare di rimanere in serie a quindi il calcio ci mette di fronte a queste cose qua e poi se mi date un secondo so che è poco professionale ad alzarmi durante il video però capirete anche perché eccoci qua eccoci qua perché nella sera nella serata in cui paul pogba con la numero 10 nuova maglia non è questa purtroppo questa me l'ha autografata pogba proprio a reggio emilia nella serata in cui pogba si fa male ne risolve un altro centrocampista fagioli un altro che me l'aveva firmata a reggio emilia e da quel reggio emilia lì fagioli aveva visto il campo sempre di meno e quindi io stasera chiude veramente un cerchio nicolo fagioli con con questa con questo gol chiude il cerchio negativo iniziato quella serata lì allora la domanda che mi facevo nel video delle pagelle l'altro giorno posta siviglia la ripropongo stasera ma come è possibile che fagioli non abbia giocato nemmeno un minuto l'altro giorno con il siviglia e dato che so già che ho la testa lì alcuni giocatori secondo me li vedremo al 100 per cento a siviglia quindi kostic quindi quadrado quindi danilo quindi milic quindi fagioli quindi scesni secondo me sei su undici ce li abbiamo già settimo potrebbe essere di maria ne mancano altri quattro rabbio locatelli ne mancano due gatti bremer e questa potrebbe già essere la formazione per siviglia vediamo se avrò ragione oppure no un abbraccio ragazzi grazie grazie